Ciao sono Uri di ToneTube e benvenuti a un nuovo video. Prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina in modo da ricevere una notifica ogni volta che carico un video, fare like se vi piacciono i miei video e venite a trovarmi anche su Instagram Uri Baranes Guitar Studio. Oggi non voglio parlarvi di pedali ma di un accessorio ugualmente diffuso dai chitarristi ossia la tracolla. Navigando su internet mi sono imbattuto in un costruttore, in un fabbricante forse sarebbe più opportuno dire, che si chiama Ice Wraps. Ora il mio inglese fa abbastanza pietà, comunque sia vi lascio il link in descrizione. Adam, che è il proprietario di questa piccola fabbrica inglese, fa della tracolla un'opera d'arte. Ora gli ho chiesto di mandarmi una tracolla e lui mi ha mandato questa. La fantasia si chiama Zephyr ed è una tracolla bellissima. Vi voglio far vedere alcuni dettagli che sono molto importanti anche dal punto di vista pratico. Innanzitutto cominciamo dalle estremità. Le estremità sono in pelle, tinta a mano, colore dorato, e la pelle è molto spessa. Questo previene alla rotazione della tracolla e se pensiamo a chiedere come la Les Paul che hanno un pochino la tendenza a cascare, previene appunto grossi guai. Quindi è importante che la tracolla insomma sia solida alle estremità e questa è una buona cosa. Le parti metalliche della tracolla sono il rame, rame antico, anche la fibbia, non so se riuscite a vederla, e l'impressione generale è un'impressione di solidità, di cura, veramente curata nei dettagli. Anche tutta la lavorazione è fatta a mano e la lunghezza è la lunghezza standard di 165 centimetri e la larghezza di 5 centimetri all'incirca. Adam, ossia Ice Wraps, dà la possibilità ai clienti di intarziare questa parte della della tracolla, di metterci quello che volete, un nome, una dedica, o anche sulla tracolla stessa. Insomma ci sono tantissime fantasie sul sito, tantissime possibilità di customizzazione, quindi vi consiglio di farvi un giro sul sito che vi lascio qua sotto, e in generale una tracolla è un'ottima idea per un regalo a un amico chitarrista, un amico bassista, quindi se cercate qualche cosa di originale per sorprenderlo, oppure se volete investire in un prodotto veramente artistico, di qualità che sicuramente sarà con voi per anni, beh fatevi un giro su Ice Wraps, Adam, ditegli che lui vi ha mandato, e è tutto per oggi. Noi ci vediamo presto con altri video, non dimenticate di iscrivervi, di fare like, e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!